buongiorno e ben ritrovate oggi voglio continuare a parlarvi di oli essenziali e questa volta ho scelto l'olio essenziale di neroli lo scelto perché lo trovo molto adatto a questo periodo quindi se lo avete nella vostra dispensa rispolveratelo è infatti un olio che lavora a livello di riequilibrio del sistema nervoso va ad agire nel caso in cui ci sia paura ansia depressione oppure anche affaticamento mentale perché ci dona un riequilibrio una pace nel cuore l'allegria e l'ottimismo ci dona calma quando i nostri pensieri sono in confusione e ci rafforza a trovare una soluzione quando invece non riusciamo a trovare una via d'uscita come calmante interviene anche negli stati di stress di nervosismo di eccitazione di tachicardia o in caso di insonnia lo si può utilizzare infatti per conciliare il sonno e in questo caso lo possiamo utilizzare anche per i bambini quando magari sono sovra eccitati e fanno fatica a prendere sonno quindi è veramente un olio essenziale molto utile a livello fisico va a lavorare invece su tutti quei disturbi psicosomatici dell'apparato digerente quindi in caso di difficoltà nella digestione di crampi addominali o ma anche con dolori addominali dovuti al ciclo mestruale in questo caso possiamo sciogliere qualche olio di olio essenziale in un olio vegetale come per esempio l'olio di mandorle dolci per andare a massaggiare la zona dell'addome e donerà da subito un rilassamento muscolare e quindi beneficio sempre a livello di pelle ok è utile perché va a rigenerare le cellule è infatti un ingrediente molto diffuso nelle maschere per il viso perché dona tonicità e può essere utilizzato anche in caso di pelle sensibile e irritata spero di esservi stata utile continuate a seguirci però in tre pillole di benessere perché noi ci siamo ciao ciao